E Domenico Tuccillo, presidente dell'Anci Campania, associazione che rappresenta circa 500 comuni della regione, ha inviato al presidente della Camera, Roberto Fico, una lettera appello sulla via dell'autonomia regionale differenziata affinché venga corretto un percorso pericoloso che ha finora impedito a comuni, regioni e Parlamento di valutare ed esprimersi su possibili. Intese un percorso che, scrive Tuccillo, crea condizioni di disparità tra i territori nei livelli essenziali dei servizi e nella distribuzione delle risorse. Cambiamo argomento.